Sequestrati tra Campania e Puglia, depositi e distributori di carburanti. Nella mattinata di ieri il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione tra le regioni Campania e Puglia ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni emesso nell'ambito di un'indagine a carico di 14 persone, indiziate di reati in concorso, di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici e irregolarità nella circolazione degli stessi. Con tale provvedimento è stato disposto il sequestro di tre depositi di carburanti e di un distributore, nonché di un'area parcheggio di cinque mezzi di trasporto e di una somma di circa 100.000 euro in denaro. Le indagini delegate agli specialisti del secondo gruppo tutela entrate hanno riguardato cinque società. Indagati avrebbero messo in piedi tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Barletta un articolato sistema di frode fiscale, volto ad estrare dal deposito fiscale, attraverso documenti formalmente corretti, gasolio con imposte agevolate per uso motopesca o agricolo, parte del quale sarebbe stato invece destinato di fatto nell'autotrazione. L'operazione è frutto della sinergica azione di contrasto alle frodi fiscali, svolta dall'autorità giudiziaria della Guardia di Finanza, a tutela del corretto andamento dei mercati e a contrasto di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori, in un delicato momento storico per il settore dei prodotti petroliferi ed energetici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.